Come è il Presidente Mattarella? Dopo le risposte concrete che dobbiamo dare ai nostri cittadini è fondamentale che ci siano senza invece opportunismi. Di questo penso che il Presidente Mattarella sia stato garante di questa azione concreta nel Paese e quindi su diversi territori e abbiamo fatto presente questa necessità che deve proseguire da qui e nei prossimi anni.